E cosa ha comportato questa scelta? Cioè di lasciare, mettessi da parte qualcosa altro che a questo punto hai abbracciato? Sai, cominciare a 21 anni, io studiavo l'università come tanti della mia generazione all'epoca, anche pensando che l'università sarebbe stata poi la scelta universitaria che abbia determinato il lavoro. Io facevo un corso di lingua all'università di Roma con indirizzo storico, quindi mi piaceva studiare, mi è sempre piaciuto, non so che avrei fatto. Poi è arrivato il lavoro, le esperienze in televisione, eccetera, quindi ho lasciato automaticamente. Non so cosa ho lasciato, sicuramente so che cosa ho trovato, ecco. E non è che è stato subito tutto molto, sono una carriera anche dei tempi naturali, in un paese come il nostro magari per un uomo è anche più facile, questo lo dico anche colpevolizzando, non io, però magari colpevolizzando poi il fatto che per una donna fare il nostro mestiere, realizzarsi ed avere un cammino sano e naturale è molto più complicato. Io ho cominciato negli anni 90, a metà degli anni 90, dove ancora, non so, per esempio parlavo con i ragazzi di oggi, diciamo così, che sono i 25 anni, che fanno il dottore, insomma, anche i trentenni, che hanno tutta la serialità intorno a loro, no? Cioè vado a fare un provino per la serie americana, vado a fare... E il giorno ho detto, certo che quando toccava a noi sta roba, cioè quando era il torno nostro, sta roba non c'era, non c'erano i primi distretti di polizia, ultimo e tanta tv generalista, quindi non vuol dire che ci saremmo andati, almeno io credo che siano andati a fare provini per film a noi, per serie americana, però, insomma, sono cambiati tempi, ecco, questo... E io credo che quelli della mia generazione, in quegli anni lì, hanno potuto fare ancora un certo rigo di cinema, forse. Che dico? Ma, non lo so, c'era, insomma, io ho cominciato nel 93, quindi sono passati 26 anni. Ecco, di cose mi sono cambiate, anche la percezione del cinema è cambiata, credo, per il pubblico, del cinema italiano, soprattutto, ma... Però anche grazie a te, perché all'epoca... No. Ti ricordi quando? Non volevo dire che era cambiato in peggio, grazie a me, può essere, sì, anche... No, no, non è vero, perché all'epoca la gente diceva, la frase è, vado molto al cinema, ma non vado a vedere i film italiani perché non mi interessa. Vuoi che ti dico quello che dicono adesso? Dì. Vado poco al cinema e vedo poco i film italiani. Eh no, purtroppo sì. Però, la cosa che ho notato in questi tantissimi anni è che non sono mai mancati registi, storie, attori, attrici. Quella roba non è mai mancata, non mai mancherà in un paese come il nostro, perché ci stanno un sacco di persone sensibili, intelligenti, che sanno usare il mestiere del cinema come veicolo per fare tante cose interessanti. sono cambiate altre cose, soprattutto di struttura, di sistema, una roba lì un po'. Quello sì, poi me ne sono accorto tanto. Tu non ti senti, cioè, anche se appunto è passato un tempo relativamente breve, che in quegli anni, gli anni 90, fino alla fine del prima decada del 2000, hai partecipato alla ricostruzione, alla rinascita... Quindi qui io direi anche alla demolizione di un certo tipo di cinema italiano, perché guarda c'è stato anche tanto cinema brutto, eh, lo dico con grande... eh? Sì, è giusto. Lo dico con grande, so, umiltà, cioè, pure partecipato anch'io, eh, cioè, cioè, per esempio c'è stato tantissimo cinema d'autore che ha, secondo me, molto, molto, era molto bello, e molto, invece era molto autoriferito, e quindi era, era il famoso cinema per sé stessi, che era una cosa che, secondo me, è un controsenso, il cinema l'ha sempre fatto per sé e per gli altri, eh, facendo attenzione anche al mondo degli altri, immergendosi nel mondo degli altri per raccontarlo. Eh, e non soltanto parlando di sé, del mondo che si conosce, si può fare primo film quello, ma poi bisogna, insomma, anche rendere un servizio di... Qual è stata la prima volta che ti sei detto, tornando a casa, da un film che hai fatto, che eri veramente soddisfatto di te? Cioè, veramente non senza effetto, ovviamente con tutta la distanza del caso, però che sapevi di aver fatto comunque un buon lavoro, che quello che stavate facendo è un film importante. Potrei dire mai, ma lo dico perché l'ho dimostrato anche nell'emozione che mi avete, insomma, regalato questo, questa accoglienza, io poi cerco di fuggire anche dalle sensazioni definitive, no? Che possono essere gioia, di soddisfazione, cerco sempre di tenere una... Ma lo dico, non so, ne parlo uno psicanalista, però diciamo che io sono ancora vivo all'interno dell'entusiasmo nei confronti del cinema, proprio perché è sempre come fuggilato, uso molto il jab, cioè colpisco ma lontano, non è che... però arriverà il giorno in cui mi emozionerò in maniera totale e sarà la fine. Credo. Hai capito la metà del cambiamento? Capito, capito. Anche quella concedente. Poi, guarda se no, poi c'è Magrelli qua che me la spiega dopo. Adesso sta stenografando. Stai crofasino, ma... È stato visto stenografare. Magari mi manda... Enrico, mandami un whatsapp, poi, una spiegazione.